Infantino, le ultime due partite hanno riportato un po' il sereno in Casal'Aquila. Sì, certamente ci volevano queste due vittorie dopo un periodo buio. Finalmente sono state queste due vittorie che ci portano, penso, quasi nei play-off. Manca un punto per la matematica. Dobbiamo continuare così, anzi, dobbiamo fare ancora meglio e seguire il mister che possiamo fare molto bene. Senti, non dovete più fermarvi come più volte avete fatto in questa stagione. Sì, in questa stagione ci è mancata la continuità. Speriamo di trovarla almeno in questo periodo finale e di andare in C1, di vincere i play-off. Poi quello è l'obiettivo, c'è questo derby contro il Teramo, tu giovesti una grande partita a febbraio e colpiste anche un palo. Ora magari vuoi aggiustare leggermente la mira. Loro sono una buona squadra, giocano molto bene, fanno un bellissimo calcio e speriamo di andare lì e giocarci la nostra partita e vincere. E speriamo che aggiusta un po' la mira anche io, che nelle ultime partite un po' è mancato. Senti, cosa c'è da temere del Teramo che peraltro è stato attraverso un momento di difficoltà? Loro sono una buona squadra, quindi poi anche se stanno attraversando un periodo brutto i derby sono partite a parte. Quindi i derby si gioca con intensità e abbiamo tutte le due squadre voglia di vincere. C'è concorrenza lì davanti ma tu prenoti un posto per domenica. No, c'è concorrenza, siamo tutti bravi lì davanti quindi sta al mister decidere. No, c'è concorrenza.